Siamo in una fase un po' critica perché siamo molto preoccupati. Solo ad inizio 2024 sono già stati 17 gli assalti alle aziende del distretto Orafo a Retino, numeri che preoccupano e non poco l'intero comparto, un fenomeno portato questa mattina all'attenzione del nuovo prefetto di Arezzo. È un tipo di produzione che attrae inevitabilmente appetiti da parte di organizzazioni criminali e quindi noi siamo chiamati a dare delle risposte. Siamo soddisfatti della disponibilità che ha dato a continuare questo percorso che avevamo intrapreso con la dottoressa De Luca, di sinergia tra noi, tra le forze di polizia, tra la vigilanza privata, tra gli installatori di allarmi. L'ultimo colpo solamente qualche giorno fa messo a segno la Taitù di Via Ramelli, già presa di mira precedentemente. Prima, dopo un periodo di quiete, a subire un colpo da 300.000 euro era stata invece la Orolinia 2 Italy. Il territorio dove sono le aziende di produzione è molto vasto, è dislocato in tutta la provincia e quindi ci sarebbe bisogno di un controllo del territorio più preciso e più costante. Ovviamente chiediamo al Perfetto di aumentare magari le forze, quindi gli uomini. Un allarme rappresentato già più volte dal settore arrivando fino all'incontro con il Ministero. Ci sono dei reparti, il reparto prevenzione dei crimini che ogni settimana viene destinato proprio alla vigilanza del comparto di produzione Orofa e quindi si tratta sempre di, ripeto, di portare avanti, di sviluppare, di ulteriormente migliorare tutto quello che sta facendo.